Ci siamo, la processione del venerdì santo dell'Aquila, un rito che si rinnova ogni anno. Siamo sul sagrato della splendida basilica di San Bernardino da Siena, siamo con Don Renzo d'Ascenso che come ogni anno ci accompagna in questo viaggio bellissimo di spiritualità. La processione del venerdì santo infatti è un rito che all'Aquila, lo ricordiamo, si rinnova dal 1954, ripreso su impulso di Fra Nicola Roccioletti che rispolverò l'antico culto che era sopito per motivi di ordine pubblico da quasi due secoli. Nel tempo però, dobbiamo dirlo, un aspetto molto importante, la processione si è fusa in maniera indissolubile al tessuto sociale della città e diciamo che è una tradizione che soltanto il terremoto e l'emergenza pandemica del Covid-19 sono riuscite a interrompere. Questa sarebbe dovuta essere la settantesima edizione, a causa invece dello stop nel 2009, nel 2020 e nel 2021 il compleanno tondo della processione dovrebbe essere a questo punto coincidente proprio con l'anno in cui la città, il 2026, diventerà capitale italiana della cultura. Per gli aquilani Don Renzo è un momento molto importante questo dal punto di vista religioso ma non solo, è di grande unione identitaria, soprattutto dopo il terremoto la gente si ritrova qui anche questa sera ci sono molti aquilani perché il terremoto ha disgregato un po' quel senso di appartenenza che c'era e quindi la città ama poi raccogliersi in realtà attorno a questi riti. A tenere vivo questo appuntamento, vediamo nel frattempo mentre stanno uscendo i primi simulacri alcune informazioni, sono i Cavalieri del Venerdì Santo, un'associazione laica che dal 2000 collabora con i frati di San Bernardino per l'organizzazione. Questa però, e lo diciamo subito, è anche l'edizione delle novità e dei ritorni perché per la prima volta dal 1954 sarà il corpo della polizia penitenziaria a scortare il simulacro del Cristo morto per le vie del centro cittadino. Inoltre è ripristinato anche il passaggio davanti a Palazzo Margherita prima non si poteva perché c'era il cantiere, invece di recente è stato riconsegnato alla città ed è stato ridotto invece il tragitto ovviamente per ovvi motivi in Piazza Duomo dove è in corso il restyling. La processione del Venerdì Santo è resa ancora più preziosa e grazie alle immagini del nostro Donatello Ricci cominciamo a vedere l'uscita dei primi simulacri da questi simulacri appunto realizzati dall'artista Remo Brindisi o comunque sul suo disegno che già sono esposti in realtà da giorni della Basilica di San Bernardino. Ognuno ha un significato intimo, un significato particolare per ogni aquilano e quest'anno, prima parlavamo dei ritorni, c'è anche il ritorno dei 22 portafiaccole che sono dislocati lungo il tragitto della processione realizzati nel 2001 dalla ditta Bontempo sul disegno dell'architetto Giuseppe Chiarizia e mentre le immagini del nostro Donatello Ricci ci portano a quelle che sono le prime uscite ogni confraternita porta un simulacro che poi magari vi andremo anche a descrivere però con Don Renzo d'Ascenso vogliamo iniziare subito a parlare del Venerdì Santo è una settimana importantissima, Don Renzo, la passione di Cristo ma anche la resurrezione insomma è una settimana che per ogni cristiano, per ogni cattolico ha un significato davvero importante quindi con lei questa di riflessione vogliamo fare? Innanzitutto un saluto, un abbraccio cordialissimo in un momento dell'anno, della vita, della storia umana più importante che esista il Venerdì Santo è domenica eccetera la settimana santa costituiscono la nostra fortuna innanzitutto io non voglio fare un discorso tipicamente teologale voglio fare un discorso proprio di sintesi innanzitutto chiediamoci ma noi perché esistiamo? perché esistiamo? che cos'è la vita? e allora io dico che la vita è un viaggio di ritorno noi siamo in processione verso una meta la meta finale che è il paradiso cioè noi veniamo dal paradiso, siamo figli di Dio poi a causa del peccato l'uomo si è allontanato da Dio e ora deve ritornare perché l'uomo senza il padre è una creatura che soffre di orfanitudine è una creatura monca, è una creatura irrealizzata solo in Dio l'uomo ritrova la sua identità e ritrova se stesso quindi dicevo viaggio di ritorno e allora vediamo perché è importante il venerdì il venerdì che regalo ci ha fatto Gesù Cristo che è sceso sulla terra abitando con noi un regalo immenso cioè senza Cristo nessuno potrebbe ritornare al paradiso terrestre cioè nessuno potrebbe ritornare nel seno del padre nel seno del padre in che senso? perché noi siamo persone fragili ontologicamente imperfette e dall'imperfazione scaturisce il male scaturisce il peccato e allora il Signore Gesù ci dice il cammino di ritorno è difficile è difficilissimo un'intricata folla, foresta e allora tu non ti preoccupare se a volte ti lasci prendere dal male ti lasci prendere dalle tue concupiscenze perché io sulla croce ho azzerato tutti i tuoi peccati li ho riscattati per te quindi nella fede tu già sei sulla strada del paradiso ma occorre la fede cioè la fiducia del Signore io penso che il problema centrale della vita di ogni essere umano consiste nella fiducia nel Signore nella fiducia e nel coraggio il coraggio che ha avuto il Signore nel Getsemane quando era assalito da tutti i nemici il Signore che stava sudando sangue ma non è crollato si è rivolto al Padre si è rivolto allo Spirito Santo e ha praticamente debellato questo terrore quindi perché era un uomo aveva anche l'aspetto umano eccetera quindi ricordiamoci il venerdì santo che cosa accade? il Signore ha inchiodato sulla croce tutti i nostri peccati e quindi dobbiamo dirgli veramente grazie perché senza questo dono formidabile il peccato ci avrebbe annichilito ci avrebbe ridotto veramente ad animali beluini quindi questo è il venerdì santo il Signore muore e risorge per noi e durante la Quaresima il Kerigma cioè l'annuncio pasquale dice se tu credi che Cristo è il figlio di Dio è Dio è morto e risorto per te tu sarai salvo ricordiamolo bene credere che Gesù è Dio e quindi può ogni cosa è sceso per te proprio per te per salvarti perché una vita senza salvezza è una vita monca cioè la fede è in rapporto alla nostra salvezza cioè alla nostra salute alla nostra sanità alla nostra salvezza quindi questo è il grande regalo che ci ha fatto il peccato non ci prostra ma il peccato viene riscattato da Dio se noi abbiamo fiducia in Lui ecco in questo momento Don Renzo grazie sempre al nostro Donatello Ricci stiamo vedendo il gruppo allegarico della Passione che esce dalla Basilica è davvero bellissimo anche il colpo d'occhio di questa Basilica straordinaria di San Bernardino con le varie confraternite anche non solo dell'Aquila ma anche del circondario che portano appunto e scortano i vari simulacri che escono in processione con gli scout con tantissime associazioni perché lo ribadiamo è un momento identitario molto importante Don Renzo faceva una riflessione importante sul venerdì santo Don Renzo purtroppo insomma anche quest'anno la Pasqua accade in un momento molto difficile a livello generale per il mondo perché ancora una volta un mondo dilaniato da tante difficoltà da tante guerre ne parlavamo l'anno scorso ma poi la situazione non è cambiata quindi come si può aprire il cuore e cercare di fare di più per la pace che può essere un discorso banale ma purtroppo ce lo dicevamo l'anno scorso ma ogni anno ci troviamo a ricommentare le stesse faccende cioè noi cristiani siamo come delle fiaccole accese e queste fiaccole illuminano quindi noi non dobbiamo preoccuparci eccessivamente dobbiamo fare del nostro non dobbiamo fare di più perché il mondo lo salva il Signore ma se l'uomo è corresponsabile quindi la nostra preghiera umile, semplice le nostre messe aiutano tantissimo a fare in modo che queste guerre abbiano veramente un termine abbiano una fine e io dico sempre ma perché non abbiamo noi abbiamo relegato il Signore nel fondare della nostra esistenza se noi avessimo un po' di fede nel Signore tutto scomparirebbe non è utopia questo e io ci soffro tanto perché quando si è col Signore si è protetti si è allegri si è gioiosi ti dà la carica ti dà il coraggio purtroppo purtroppo Dio è stato messo nell'angolo e non è impossibilitato ad intervenire perché perché l'uomo Dio non fa violenza agli uomini vuole la sua adessione totale per la sua per la sua salvezza per la sua salvezza dicevo che questa vita nostra è un viaggio di ritorno dove dove acquistiamo il materiale diciamo il coraggio la forza per andare avanti perché non è facile noi siamo imprigionati dalle nostre passioni ebbene l'Eucaristia oggi le messe sono diradate e se noi non frequentiamo la messa domenicale il Signore non può donarci la sua grazia il suo gratis il suo aiuto e ci ridona veramente l'identità perché quando noi riceviamo quell'ostia riceviamo Cristo totalmente viene dentro di noi ci assimila a Lui per cui il processo di crescita dell'uomo è un processo di divinizzazione di salute di sanità di santità ecco il motivo per cui è impossibile vivere se voltiamo le spalle al Signore ecco nel frattempo sta uscendo il simulacro della Sacra Signone scortato dalla Croce Rossa e poi c'è uno dei momenti più belli che il nostro cameraman ci sta immortalando ci sono i bambini vestiti da angeli con le suore accompagnati dalle suore quindi delle scuole cattoliche della nostra città è una delle immagini questa dei bambini davvero più bella Don Renzo dicevamo insomma che ci avviciniamo la domenica delle palme è stata 5 aprile del 2009 l'ultima domenica di normalità per gli aquilani anche qui anche nella processione del venerdì santo a breve lo vedremo uscire c'è un simbolo quello dei martiri del 6 aprile anche quest'anno ci avviciniamo ad una ricorrenza ad un anniversario è il quindicesimo e proprio adesso ne parlavamo e sta uscendo il monumento dedicato ai martiri del 6 aprile scortato dalla polizia di stato ne parlavamo con Don Renzo ho anticipato quella che voleva essere la domanda stiamo vedendo questo monumento che ha sempre un colpo al cuore per gli aquilani viviamo questi giorni perché poi ci avviciniamo al quindicesimo anniversario con dolore ripensando a quello che è stato Don Renzo però sono stati anni in cui c'è stata la resistenza la resilienza questo termine è molto abusato però c'è stata una resistenza dei cittadini e diciamo che l'aquila ce l'ha fatta l'aquila è rinata e anche i sentimenti noi aquilani sono cambiati c'è sempre il dolore c'è sempre nel ricordo delle vittime ma siamo andati avanti io dicevo della potenza dello spirito di Dio della potenza della santissima eternità io ho vissuto in pieno il dramma del terremoto e mi sono salvato proprio per per miracolo e devo dire che il Signore ha ha ricucito tutte le ferite di quella notte terribile di quella notte terribile e vedo anche che gli aquilani ora hanno ripreso a vivere normalmente la gente più è più fiduciosa più sorridente è come se quell'evento anziché un dramma vero fosse come un avvertimento come se Dio ci avesse detto puntate su di me non allontanatevi da me perché senza di me l'uomo non può fare nulla ecco mi viene in mente ora che ci troviamo davanti alla chiesa di San Bernardino la facciata è straordinaria e voglio ripetervi voglio dirvi una cosa che San Bernardino è il santo del respiro dei polmoni quindi imploratelo e implorate i santi perché loro intercedono presso Dio perché noi non ci salviamo da soli ci salviamo in compagnia uniti nell'amore gli uni degli altri per esempio quando a me perdo qualche cosa io mi rivolgo a Sant'Antonio e Sant'Antonio stranamente mi fa ritrovare tante belle cose questo per dire come la salvezza è collettiva la salvezza perché un cristianesimo diciamo individualista non è un cristianesimo il cristianesimo è è unito alle opere le opere soprattutto nei confronti di chi ha bisogno noi se non maturiamo l'amore verso tutti non possiamo non potremmo mai pretendere di entrare in paradiso in paradiso appunto non si va da soli ma si va in compagnia di tante persone che noi abbiamo salvato ecco in questo momento sta uscendo il coro del venerdì santo il coro aquilano con tutti i componenti uomini e donne che durante il percorso intoneranno insomma i loro canti il miserere anche questo di portare la voce portare la preghiera attraverso il canto nelle vie del centro cittadino è un aspetto molto importante ed è identificativo di questa processione del venerdì santo che è davvero unica ci fa piacere come ci sia anche tanta gente tanti aquilani che vogliono assistere a quello che è un rito sì e anche aspetti come dicevamo con Don Renzo profani nel senso di identità di ritrovarsi però ovviamente la gente ama raccogliersi anche in preghiera per vivere questa settimana santa e questa processione del venerdì santo davvero con il cuore puro mentre continuano a uscire dalla basilica dei simulacri abbiamo fatto la riflessione insomma sul 6 aprile che viviamo sempre come un momento anche quello di grande raccoglimento io a Don Renzo però volevo fare un'altra domanda prima lui ci parlava anche di come noi poi ci dobbiamo preparare ad accogliere il Signore che è morto per noi non ce lo dimentichiamo mai è morto per tutti è un Dio che perdona che vuole bene a tutti anche se noi siamo imperfetti in questo momento stanno scendo proprio i Cavaliari del Venerdì Santo l'associazione che poi ha ripreso in mano questa bellissima tradizione Don Renzo come però inculcare questi valori ai giovani perché noi vediamo sempre meno giovani andare a messa sempre meno giovani avvicinarsi come far riscoprire è una chiesa a volte forse un po' vecchia tra virgolette mi passi insomma il termine come possiamo riavvicinare i giovani che poi sono nel nostro futuro e abbiamo bisogno e avete bisogno anche voi sacerdoti dei giovani diceva il grande Papa Paolo VI che nel nostro tempo tanti sono i maestri uno legge un libro si prepara fa una bella relazione può parlare bene ma ciò di cui noi abbiamo bisogno in modo particolare i giovani è la testimonianza se un giovane vede un adulto che sa accogliere che sa essere simpatico che lo guida che si cura di lui è una meraviglia ora non per per farmi grande io ho insegnato e l'ultimo anno sono andato via con un ricordo bellissimo i ragazzi della quinta superiore quando vedevano aperta la porta della mia classe entravano dentro e dicevano e dicevano agli alunni ma voi sapete che siete fortunati perché siete fortunati perché avete il professor da scienzo perché lui si interessava di noi aveva cura di noi ci voleva bene e questo mi è rimasto impresso e allora io li vedevo quando uscivo di casa mi correvo un incontro perché i ragazzi hanno bisogno di amore di testimonianza di affetto di pulizia questo qui soltanto se noi cambiamo allora cambia anche il mondo intorno a noi perché le riunioni le prediche servono a poco serve tanta testimonianza tanto amore tanta vitalità e tanta gioia di vivere per il cristianesimo è gioia se noi ci presentiamo sempre col volto duro indurito sempre pensosi sempre lontani e loro dicono ma sì ma che cosa serve avere fede se la fede rende queste persone così aspre così dure invece il cristianesimo è gioia di vivere nulla è più grande della gioia del cristiano ecco Don Renzo questo è il momento più significativo che commentiamo Donatello Ricci ci porta proprio davanti la basilica ai carabinieri in alto uniforme la scorta della polizia penitenziaria per la prima volta da quando esiste la processione con il Cristo morto un grande riconoscimento anche per la polizia penitenziaria per questo lavoro tanto nascosto di questi agenti Don Renzo peraltro lo diciamo anche in diretta lui è stato cappellano del carcere quindi ha avuto un'esperienza all'interno insomma forte del carcere le costarelle anche con il 41 bis un grande enore per questi agenti che si trovano a fare un lavoro davvero straordinario Don Renzo commentiamo quello che è il momento più importante il Cristo morto che viene portato in processione tra le vie del centro ecco appunto il Cristo morto il Cristo morto per noi cosa c'è di più grande di una persona che ti dice io per te ho dato la vita cosa posso dimostrarti perché tu possa credere al mio amore mentre uscivano c'erano gli agenti della polizia penitenziaria io sono stato per sette anni cappellano nel 41 bis quindi Camorra Andrangheta Sagra Corona Unita Mafia eccetera e devo dire che contrariamente a quello che si dice il carcere dell'Aguida è un carcere veramente positivo ho visto gli agenti che rispettavano tantissimo i detenuti certamente il dramma grande dei detenuti è la perdita della libertà però devo testimoniare con profonda gioia l'intento buono di tutte le guardie eccetera io ringrazio tanto ho passato un periodo difficilissimo però è un periodo in cui mi sono sentito veramente sacerdote perché passavo nelle celle di tutti i detenuti ad annunciare la buona novella e dicevo loro guarda che questa storia finirà perché se voi vi convertite riconoscete i vostri peccati Dio vi ha perdonato e quindi se vi ha perdonato vi spetta il paradiso e questa è una cosa bellissima e vedere tutti gli agenti della polizia penitenziaria mi ha provocato veramente una una commozione profonda e li ringrazio ancora ecco stiamo vedendo Torrenzo le autorità perché il diciamo il corteo della processione sta terminando è passata anche la statua della Vergine Maria ascoltata da altre preziosissime persone i bg del fuoco e tutte le autorità del comune dell'Aquila con il sindaco consiglieri comunali ecco Torrenzo ci ha fatto questa riflessione sul carcere mi ha ricordato delle cose bellissime perché noi spesso quando Torrenzo era cappellano del carcere abbiamo avuto momenti di approfondimento abbiamo fatto varie interviste ci ha sempre raccontato di questa esperienza davvero davvero forte perché poi è un'esperienza forte e io devo dire che da giornalista insomma sono stata sempre molto contenta di quello che che ho sentito e quindi anche la presenza di Torrenzo diciamo casuale che noi avevamo scelto prima è stata importante anche per questa scorta d'onore questa sera al Cristo morto che è davvero un grande onore per questi agenti di polizia penitenziaria che tanto si impegna di questa informazione della polizia penitenziaria perché ho trovato persone veramente in gamba anche loro praticamente vivono un dramma a contatto con i detenuti e devo dire una cosa che il cappellano tra tutte le figure all'interno del carcere era la figura più amata perché il cappellano rappresenta Cristo che offre loro la buona novella cioè una parola di salvezza certamente la giustizia umana deve essere giustizia umana però agli occhi di Dio chi riconosce i propri peccati viene automaticamente riscattato e quindi agli occhi di Dio è un cittadino come tutti ecco io vorrei tanto che anche la gente nei confronti delle sventure umane avesse un'intenzione buona di misericordia di amore di perdono perché nulla per me nessun peccato è più grave del giudizio noi ci mettiamo al posto del Signore non dobbiamo giudicare nessuno dobbiamo solo amare il nostro compito è amare tutti ecco è terminato insomma tutta l'uscita tra l'altro c'era alla fine anche la croce del Calvario portata dall'Unitalsi Don Renzo partecipa attivamente anche con l'Unitalsi nel portare i malati a Lourdes abbiamo avuto anche la Madonna di Lourdes nella Basilica di San Bernardino qualche giorno fa io ringrazio davvero Don Renzo per le sue parole sempre preziose sempre significative mai banali e che non si fermano soltanto alla semplice religione fai da te buttata lì ma sempre delle riflessioni molto profonde devo ringraziare ovviamente il nostro Donatello Ricci che ha curato come sempre con la sua sapienza con la sua bravura delle immagini bellissime che vi abbiamo proposto grazie a tutti i telespettatori di Rete 8 e grazie Don Renzo grazie a tutti e ricordatevi buon viaggio di ritorno nella casa del padre equipaggiatevi bene non perdete mai la messa la preghiera e le opere buone e poi alla fine noi ritroveremo quel signore che per noi è morto è morto ed è risorto e dall'Aquila dall'Aquila un abbraccio da Don Renzo e da Medania e da Donatello Ricci e davvero una buona serata e una buona Pasqua a tutti i telespettatori di Rete 8 grazie a tutti